frederick frankenstein ha sfornato un'altra youtube pub ovvero jumpy tech e le sue fissazioni non per greta ora ragazzi in milioni come sempre mi avete detto jumpy fa la reaction a questo video jumpy fa la reaction a questo video l'ha pubblicata tipo un'ora fa si esatto un'ora fa ed è da un'ora che mi state spammando su instagram sotto al video di youtube l'ultimo video di oggi ovunque mi state spammando reagisci alla youtube pub di federick frankenstein mi avete anche spoilerato che fa molto ridere ora io odio quando vi fate questo spoiler perché so che federick frankenstein mi fa partire ogni volta gli shuttle e i copertoni bucati questo cosa mi fa ridere un sacco però andremo a vedere non vedo l'ora dura 3 minuti e 34 questa è la youtube pub iniziamo subito benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di jumpy tech siamo oggi in un video di jumpy tech oggi ragazzi andremo a parlare di alcune mie fissazioni e soprattutto praticamente è il video dove racconto le mie 5 fissazioni se non sbaglio ed era praticamente oro per frederick ma dovevo aspettare una cosa del genere jumpy tech sono cose strane quelle che andrei da sentire adesso ragazzi la prima fissazione è ogni volta che vedo una ragazza per strada la prima cosa che faccio è farmi toccare il cazzo sono un malato maniaco ma non è questo il video adatto per parlare di questa cosa un'altra fissazione che ho che potrebbe essere anche una cosa strana è la merda e ogni volta che vedo una merda faccio la foto e la mando a morri che mi risponde ovviamente con un porco dio poi ragazzi sono la persona più pulita di questo mondo infatti la mia postazione è sempre super ordinata sempre super pulita però mangiò la merda appena cagata nel cesso proprio sto male con me stesso mangiare tutta la merda cagata ma prima la prendo la metto tutta in ordine in fila è una sorta di faticismo non ci posso fare niente ragazzi è una cosa mia la terza fissazione ragazzi è che batto per strada tutto il fottutissimo tempo un'altra fissazione che ho è la pulizia vado nudo in giro per la città sono un maniaco tipo di quelli che si mettono le mani nel culo ciao ragazzi ma ma la cosa bella di questo youtube è che è estremamente fluida che sembra che stia parlando effettivamente io non sembrano tagli fatti vabbè continuo a guardare che no dico cazzà però ogni settimana io prendo il panno in microfibra il prodotto e pulisco il culo all'interno un'altra fissazione che ho poi è che io infilo il cazzo in tasca di quasi tutte le persone che conosco non ci posso fare niente ragazzi è una cosa mia comunque ragazzi io mi faccio di eroine madonna ragazzi sono strafatto altrimenti vi giuro che divento un pazzo perchè non sono normale mai 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 pietro prestigiato mai 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 jumpy mai 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 jumpy mai 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 jumpy mai 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 jumpy non 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 vi giuro che non mi farei mai toccare delle brutte ci faccio un esempio io adoro questo tipo di ragazze ma questo qui per esempio lo disgusto vi giuro guardiamo questo qui no no non ce la posso fare non ce la posso fare ecco per esempio lo disgusto vi giuro ragazzi che io ogni volta che vedo greta menchi la guardo tutto il tempo e mi allontano perchè mi vomito addosso oh mio dio no ok la evito come la peste e vi spiego il pacchetto perchè appunto mi da fastidio mi da fastidio che quella persona sia un fottutissimo cesto malato di mente psicopatica oppure alla fine di frederick c'è sempre tanta roba infatti guardiamo qua no è scritto jumpy deck con la i e non con la y ti odio per questo di frederick franklin stein sempre numero uno penso sia veramente uno dei più bravi a fare le puppe vi lascio ovviamente il link di questo video qua sotto in descrizione andiamo a supportarlo come lo schifo e adesso andiamo a leggere i commenti prima che parla di greta senza fare un milione di views ahahahah seconda volta che fai diventando una domenica di merda in un giorno migliore grazie jumpy dumpty tra l'altro jumpy dumpty frederick cazzo è diventato tipo il tormentone chiunque anche il raduno e chi mi incontra per strada ehi jumpy dumpty guarda che hai creato guarda ovviamente la reaction è d'obbligo la sto facendo mike channel il povero muri che deve sopportare le foto che gli mando a jumpy deck ogni giorno quindi greta manchi possiamo rinominarla come 600 ahahah ahahah ok comunque ragazzi io direi che per questo video reaction sulla youtube pup di frederick possa essere tutto vi lascio ovviamente il link del video originale qua sotto in descrizione andiamolo a supportare con un bel mi piace e un bel commento e niente frederick sempre numero uno grazie mille sempre per queste cose che mi regali e ci regali a tutti noi dell'internet basta del suo canale mi raccomando da jumpy deck è tutta e ciao 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 ciao